Ciao Nino, come stai? Bene, bene. Chi meglio di te poteva vincere il premio simpatia? Beh, vabbè, chi meglio di me? C'è stato un sacco di persone simpatiche, beh, un sacco, diciamo, cominciamo a misurare le parole, poche sono le persone simpatiche, però insomma, se io rientro a questi, diciamo, a questi pochi che ci sono, mi fa tanto piacere. Ma fa fecesi, ecco qua, leggiamo che c'è scritto qui, Nino. Non mi fa venire là perché mi stanno aspettando, dai. Perfetto, allora ti saluto, saluto a tutti i tuoi fan. Ciao, ciao a tutti. Grazie per la tua simpatia. Ciao Nino, ciao.